Hojo Jutsu, l'arte guerriera della corda. Evolutosi in Giappone in ambiente militare sin dal 1400 e successivamente adottato dalla polizia del periodo Edo, lo Hojo Jutsu è la disciplina marziale che insegna a catturare un prigioniero per mezzo di una corda. Quest'antica arte mi ha affascinato profondamente per le sue implicazioni culturali, filosofiche, sociali e religiose. La sua storia conduce direttamente e curiosamente a quello che oggi è famoso in tutto il mondo come il bondage giapponese, lo Shibari. Mi chiamo Cristian Russo, questo è il mio libro, questo è il mio podcast. Shintai, il corpo e la mente. Giungere all'esecuzione di una tecnica Hojo Jutsu prevede prima di tutto un confronto fisico. È necessaria quindi la padronanza di un'arte marziale che porti all'immobilizzazione dell'avversario. Le arti marziali giapponesi si fondano sul principio del risparmio energetico, dell'intelligenza e dell'armonia e l'arte della corda rientra a pieno titolo in questo filone. Diverse tecniche per il confronto a mani nude furono sviluppate nell'antico Giappone, con nomenclature per ogni singolo argomento, tra i quali, a precedere il processo di legatura vera e propria, troviamo L'efficacia di ognuna delle tecniche inserite in queste categorie può essere amplificata da una di strumenti non letali come jute, hanbo, bo, bokken, tenouchi, suntetsu, kusari e naturalmente la corda stessa. Ma sono corpo e mente, cioè l'attitudine fisica connessa alla conoscenza dei principi e la relativa capacità di adattamento alle diverse situazioni, gli strumenti principali in mano ai praticanti di un'arte marziale. Approcciarsi allo Hojo Jutsu senza un addestramento approfondito nelle suddette materie porterà a movenze goffe inefficaci ed estremamente pericolose per chi le esegue e per gli altri. Preparazione Prima ancora dell'esecuzione di una tecnica è fondamentale la preparazione e l'alloggiamento della corda stessa. In chiusura al capitolo è indicato come predisporre correttamente la matassa. Il praticante di Hojo Jutsu potrà poi alloggiare la matassa legandola alla cintura, inserendola nella manica del kimono, sode o in una delle tasche della divisa Shuzhou. L'estremità della corda viene fatta passare lungo il corpo di Tori e lo scorsoio chiuso intorno al suo gomito o al suo polso. In questo modo, nel momento dell'esecuzione di una tecnica di immobilizzazione, afferrando ad esempio il braccio di Uke, vi sarà la possibilità immediata di far passare lo scorsoio dal proprio braccio a quello dell'avversario, senza lasciare in alcun modo la presa e dando inizio alla tecnica di imbastitura naoagake. Respirazione Una corretta respirazione è sempre importante in attività che richiedono concentrazione e o uno sforzo fisico, e lo Hojo Jutsu non fa eccezione. Nel particolare processo psicofisico, spesso seguito di una lotta dell'imbrigliare Uke con una corda, la calma e il focusing necessari possono essere aiutati da atti respiratori lenti e profondi. Il neofita di un'arte marziale giapponese, come il Jutei Jutsu, potrebbe rimanere attonito durante le prime lezioni impartitegli, quando anziché apprendere come si aspetta le segrete tecniche di combattimento, egli si veda esortato a reimparare a respirare. Respirare è uno dei pochi processi biomeccanici a risultare al tempo stesso involontario e volontario. Dal primo vagito respiriamo incessantemente fino all'ultima esalazione, e ciò avviene al di là della nostra volontà. Eppure possiamo decidere di trattenere occasionalmente il fiato, di rallentare la respirazione o di accelerarla. Respirare è quindi un processo almeno in parte condizionabile, con conseguenze anche rilevanti. In tutto il mondo antico, all'atto del respirare, si è dato un grande valore dal punto di vista fisiologico e filosofico. In Oriente, sin da Lao Tzu, uno dei fondatori del taoismo, l'inspirazione è considerato un atto yin, mentre l'espirazione è un atto yang. Approfondiamo un attimo il concetto di yin e yang. Letteralmente questi due termini indicano i lati opposti di una collina, all'ombra e al sole. Sono usati nel taoismo cinese per indicare il dualismo che compone l'universo. Ciò che è yin è freddo, negativo, femminile, introverso, inattivo, notturno, vuoto, tende verso il basso e l'interno. Ciò che è yang è caldo, positivo, maschile, estroverso, attivo, diurno, pieno, tende all'alto e all'esterno. All'apice di espressione del primo polo si manifesta il secondo. Essi hanno un'origine comune, non esistono a sé, ma in relazione all'altro. Ognuno contiene il seme dell'altro. Questi poli non sono sinonimi di bene e male, ma anzi attraverso l'alternanza equilibrata di questi due poli, nelle diverse manifestazioni naturali, sociali, fisiologiche, alimentari, è possibile il mantenimento dell'armonia, fine ultimo del Tao. Tornando alla respirazione, l'aria pura proveniente dalla natura è considerata yang e entra nel corpo umano dinamicizzando lo yin. Secondo questa concezione, al fine del mantenimento dell'armonia, della vita, della salute, dell'energia, della psiche, è di primaria importanza che i due momenti di ispirazione ed espirazione si equilibrino fra loro. Se la qualità di ispirazione ed espirazione spontanee è segnale di armonia psicofisica, nel momento in cui condizioniamo tale processo non possiamo non condizionare al contempo tale armonia. Accennando alla fisiologia della respirazione si evidenzia la portata pratica di questi concetti in apparenza solo filosofici. Con l'inspirazione il corpo umano viene nutrito di ossigeno, mentre con l'espirazione esso si libera dell'anidride carbonica presente nel sangue, scarto dei processi metabolici. Alle diverse fasi dalla velocità e profondità del ritmo di alternanza inspirazione e espirazione corrispondono diversi termini. iperventilazione, ossia l'aumento a riposo del ritmo, ispirazione e espirazione, la pnea, ossia l'interruzione di quello stesso ritmo, l'attacchipnea o polipnea, respiri brevi e superficiali, la bradipnea, riduzione del ritmo, l'iperpnea, atti frequenti e profondi, infine la dispnea, l'affanno o difficoltà a respirare. La velocità dello scambio gassoso varia l'equilibrio di quantità nel sangue, di ossigeno e anidride carbonica, influenzando il funzionamento dei tessuti e degli organi e favorendo l'accumulo di sostanze acide e tossiche. Inoltre, la presenza di anidride carbonica nel sangue stimola il sistema nervoso centrale a procurarsi nuovo ossigeno, la cosiddetta fame d'aria. Così, un'iperventilazione prolungata, riducendo la quantità di anidride carbonica e interrompendo lo stimolo ad acquisire nuova aria, causa paradossalmente la drastica diminuzione di ossigeno nel sangue. La frequenza respiratoria è strettamente connessa alla frequenza cardiaca. Il numero di battiti al minuto è inferiore durante l'espirazione e superiore durante l'inspirazione e ad un aumento del ritmo cardiaco corrisponde un immediato aumento del ritmo respiratorio. Attraverso apnea e iperpnea è possibile quindi ridurre sensibilmente il ritmo cardiaco o aumentarlo con l'iperventilazione. Se poi ci riferiamo agli stati emotivi sappiamo che la frequenza cardiaca può aumentare in condizioni di forte stress, per paura, per rabbia, per affaticamento. In questi casi è probabile che si inneschi un circolo vizioso, perdiamo il controllo di tutto, anche della respirazione, e rischiamo di compromettere ulteriormente la lucidità mentale o la performance fisica e, in casi estremi, la salute. Analizzando le molteplici funzioni di un atto solitamente lasciato al caso, diventa importante apprendere una pratica respiratoria corretta per le diverse funzioni cui dobbiamo assolvere. La pratica respiratoria di base nelle arti marziali o Okinaga affonda le sue radici nel metodo indiano pranayama, lento e profondo, caratterizzato da pause apneiche dopo l'inspirazione e dopo l'espirazione, e quindi da un grande controllo del diaframma. Nel metodo giapponese standard è prevista l'inspirazione con il naso e l'espirazione con la bocca, seguita talvolta da un piccolo colpo di tosse, onde creare maggior vuoto che accolga il nuovo pieno d'aria. In tutta l'Asia alla respirazione vengono assegnate anche importanti funzioni energetiche. Non solo l'aria entrerebbe nel corpo di chi pratica la respirazione, ma anche il Ki, l'energia vitale che permea l'universo. Accogliendo il Ki, introiettandolo e concentrandolo nel Saika Tanden, corrispondente al secondo chakra indiano chiamato Svadistana, il praticante sarebbe infine in grado di proiettarlo e di direzionarlo a proprio piacimento, al fine di curare, di proteggere, di concentrare, di sottomettere, di distruggere o uccidere. Questa esteriorizzazione del Ki può avvenire in modo repentino, con un grido chiamato Kyae, l'unione al Ki, o tramite vocalizzazioni lente e continue, come i mantra, in giapponese Shingon, del buddismo esoterico. In occidente il più famoso mantra è lo Om induista. Per padroneggiare la respirazione, la pratica deve avvenire quotidianamente. Dapprima ci si potrà sedere in posizione sesa o a gambe incrociate, con la schiena bene distesa ed il capo in linea, le spalle aperte e rilassate, il mento leggermente reclinato in alto ed il naso alla stessa altezza dell'ombelico, e procedendo poi con atti respiratori diaframmatici sempre più lenti e controllati. I giapponesi affermano a indicare la respirazione ventrale che si debba respirare con i piedi e che, tenendo una piuma o una fiamma davanti alla bocca, essa non dovrebbe muoversi nel momento dell'espirazione. Successivamente si potrà eseguire gli stessi esercizi in movimento o in condizioni di stress psicofisico, controllando e stabilizzando gli impulsi emotivi ed i movimenti corporei. Anche questo episodio è finito. Se volete conoscere di più sullo Hojujutsu potete acquistare il mio libro. Trovate i link in descrizione all'episodio. Ciao, alla prossima! Grazie! Grazie!